Renato Missaglia, artista. Siamo passati dai cuochi, il nostro percorso prosegue su che cosa? Prosegue sulle grandi famiglie e grandi marchi italiani, cioè quello che fa grande l'Italia nel mondo in questo momento di drammatica crisi. È il secondo tassello dell'evento creato con Alberto Lupini, un evento che ci porterà all'Expo 2015 con l'alimentazione, l'alimentazione vera, quella buona, per cui l'anno scorso i cuochi a colori, quest'anno le famiglie a colori e l'anno ventura invece il territorio e le grandi eccellenze non così note. Grazie